Acipe annunum de Manu Petri, et noveris di lezione, principis apostolorum di lezione tua, acipe annunum di lezione tua, acipe annunum di lezione, principis apostolorum Petri e Paolo, acipe annunum di aconiam sante Mariae de Mercede e santi Adriani al locum vulgo Villa Albani, in nomine Patris e Filho e Spiritus Sancti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS